Musica Ben trovati dalla redazione di Telebari. Si è conclusa oggi la tre giorni dedicata alla giustizia e un momento di riflessione sulle disfunzioni della Procura barese. Sentiamo quali sono i commenti, quali sono stati i commenti rilasciati ai microfoni di Alessandra Bucci. Senatore, lei ha risposto indubbiamente alle dichiarazioni di Finiglieri dicendo che non esiste il fatto che l'EPM possa essere sottomesso all'esecutivo. Sì, tra le nostre proposte non c'è questo. E che tra le altre cose non è uno scandalo perché ci sono altri ordinamenti del mondo occidentale che prevedono questa soluzione all'interno di un equilibrio costituzionale diverso da quello italiano. Noi non l'abbiamo avanzata. Quindi discutere di un tema di scuola in questo momento può servire a confondere le acque. Rilievi importanti ma c'è stata una grande assenza quella del Ministro Alfano. Sì, effettivamente il Ministro della Giustizia è il responsabile dell'organizzazione. La collaborazione tra la Procura di Bari e il Ministero della Giustizia non fosse altro che per la mia provenienza professionale prima non si è mai interrotta, si lavora. Certo, il Ministro della Giustizia è il protagonista dell'organizzazione della giustizia. Sindaco, lei in questa sede ha rilanciato l'idea dell'ex ospedale militare Bonomo. Eravamo partiti bene perché sostanzialmente devo dare atto al Ministro Alfano che aveva fatto una pressione molto forte sul Ministero della Difesa per ottenere la consegna al Comune di Bari della struttura. Peraltro oggi il Presidente della Regione ha dichiarato di voler mettere a disposizione della ristrutturazione di questo immobile il danaro che la Procura della Repubblica ha recuperato dalle truffe farmaceutiche. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare tutto bene ed in fretta. Però abbiamo notizia di un raffreddamento tra virgolette del Ministero della Difesa su questa ipotesi. Io non vorrei che come è accaduto per la mancata riapertura nei tempi previsti del Teatro Petruzzelli qualcuno, qualche strega cattiva ci stia mettendo lo zampino per evitare che questa emergenza dell'edilizia giudiziaria possa risolversi e che qualcuno possa poi alla fine dare il merito al Sindaco di Bari o al Presidente della Regione. E a margine del convegno il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è tornato a pungolare il Governo per l'inezia nell'approvazione del piano di rientro della sanità pugliese. Sentiamo. Troppo occupati anche i ministeri, parliamo ovviamente del piano della salute, per questo che lì ha dovuto scrivere al Premier Berlusconi? Io ho scritto una lettera molto garbata a Berlusconi. La Regione Puglia è vittima, è vittima di un accanimento violento, al limite del sadismo, da parte dei pezzi di questo Governo. Io riesco a interloquire con alcuni ministri, con alcuni ministeri, positivamente, proficuamente, poi arriva a un certo punto un alto là, da parte di chi cerca di combattermi producendo danni e lacerazioni agli interessi della mia collettività. Ho chiesto al Presidente del Consiglio di guardare un attimo. Il piano di rientro, perché non lo firmano? I tecnici del Ministero dell'Economia dicono che abbiamo fatto al meglio il nostro lavoro, abbiamo garantito i tagli per 450 milioni di euro al sistema sanitario, bisogna firmare. Ogni mese che passa e non firmano, il danno aumenta di 10 milioni di euro. Sono 10 milioni di euro sottratti ai pugliesi. E se poi non dovessero firmare, la Puglia precipiterebbe in un pozzo nero. Allora, se qualche ministro pugliese pensa di combattere vendola, facendo pagare alla Puglia un prezzo così alto, siamo di fronte alla consumazione di un delitto. Io lo denuncio, chiedo a tutti un atto di responsabilità, chiedo a tutti un atto di coscienza e chiedo al Presidente del Consiglio di fare il Presidente del Consiglio, di occuparsi degli interessi di una regione di oltre 4 milioni di abitanti che merita di essere trattata con più rispetto. Voltiamo pagina a più pattugli e a Presidio del Borgo Antico a partire dalla prossima settimana. Disporlo in un'ordinanza il questore di Bari, Giorgio Manari, a seguito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di lunedì scorso dedicato alla città vecchia. Potenziati i controlli nella piazza della Cattedrale e in altri punti nevralgici del borgo. Intanto la Polizia Municipale si sta attrezzando per far rispettare il provvedimento firmato dal Sindaco che introduce alcuni divieti tra i quali quello per i pregiudicati di far capannelli pregiudizievoli per la sicurezza. Il Comune di Bari torna a battere cassa nel mirino agli evasori di Ic e Tarsu per un credito complessivo di 14 milioni di euro. Il servizio di Mirko Cafaro. E caccia agli evasori di Ic e Tarsu al Comune di Bari. 6 mila gli avvisi di preaccertamento relativi all'Ic 2005-2006 e 16 mila le lettere con richiesta di chiarimenti sulla Tarsu già inviate da Palazzo di Città. Un'operazione complessiva che potrebbe portare le casse comunali al recupero di 14 milioni di euro che consentirebbero così di rinsaldare i magri bilanci comunali e restituire impulso al settore dei servizi sociali sul quale grava ormai da tempo e sempre più pesantemente la scure dei tagli governativi. Come ha spiegato ai nostri microfoni l'assessore al bilancio Gianni Giannini. Questa faccenda ci consente per un verso di recuperare delle risorse per il bilancio comunale per altro verso di bonificare la banca dati che abbiamo noi e di consentire ai cittadini di aggiustare diciamo così tra virgolette o di correggere eventuali errori che riguardano la loro posizione da contribuente e per altro verso ci consente di rendere giustizia a quei cittadini che pagano regolarmente le tasse facendole pagare anche a chi diciamo così ha dimenticato di farlo negli anni passati.